Aritmia cardiaca e caldo torvido Serbia molto come la tua mascherina sopra il comito Menefreghismo e non curanza la fermata Si attraversa una signora anziana e viene strascicata Ragazzi del 99 battaglieri Ragazzini del 99 fanno i poco seri TikTok, move in secondo i pop tu non c'entri niente Ma è stato in alto ma il suolo rasente L'energia me la fornisce la gentaccia mia E adrenalina, tacque e scappo dalla polizia E' una situa che è ridicola Gente che pur di non pagare temi agone dopo svicola 2020 la crema della crema Manca solo D'Alema che balla Gerusalemme Tu fatti seghe su foto della Vignali Mio papà fa i libri io vi faccio il culo sulle strumentali Explicit, me l'ha detto un fratello africano Ciò significa il fatto che parlo chiaro Eh dico, il tuo denaro tienitelo stretto Non compri rispetto, non paghi l'affetto E' una situativa 720, me l'ha detto un fratello africano Ciò significa il fatto che parlo chiaro Eh dico, il tuo denaro tienitelo stretto Non compri rispetto, non paghi l'affetto Miglioro l'aspetto Aspetto Aspetto